Dovevamo andare al mare oggi, volevo fare un video sul mare in Irlanda di nuovo dopo due anni, ma video che inizia così, come potete ben vedere. Quindi andiamo là, non sul tetto di Balacasa ma le Wiglow, le montagne irlandesi e dopo quattro anni non ci sono mai andato, quindi è la prima volta e... Spoiler! Ma eccoci al consueto momento dello sponsor di questo video, ovvero il medesimo, iscriviti al canale, grazie, ti ringrazio molto, vediamo al video, ciao! Ciao amici del mio canale, Stiamo andando a... Oggi da quanto tempo non parlavo nei tuoi libri? Sbattà! A fare un barbecue con dei nuovi amici che non conosciamo ma che presto conosceremo! Emozionate! Andiamo a grigliare il caffè, il caffè, il caffè! Stamacola! Tra l'altro cappellino Defcon, tattico, vi lascio il video qua, tanta roba! Eccoli! Buongiorno! Buongiorno! Oh ma sempre la macchina dei Baltici, incredibile! Video qua! Allora, costa 7 euro e 50 a testa e si paga con il posto! Stai cuocendo il barbecue? Sì! Barbecue, abbiamo le regole, ok? Ci sono le dire, sentite! Ok? No musica! Ok! 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 Grazie! Ciao amici! Cazzo ma ci abbiamo due castri di birra! Ma figurati! Le mettiamo, le mettiamo nel... No barbecue? Le mettiamo! Che cazzo è un convento figo! Ma qua ci sono i funghi! Oh ma non siamo neanche all'Irlanda! Buonasera! Non so dove c'è una... c'è una cascata là dietro e noi adesso andremo a questa cascata che si chiama... ve lo lascio scritto qua! Dimmi, grande capo! Io direi, vi porto là, proprio dentro il posto, vi scarichiamo e torno a parcheggiare! Noi siamo qua, zona parcheggio, qua ci sono le cascate e si può fare grigliata solo nel posto più figo praticamente! Qua... zero! E' pieno di... il suo foresto, il suo foresto, esatto! Adesso vi porto qui, scarichiamo e vengo a parcheggiare qua! Bisogna si può bere, stiamo occultando la birra! Giusto? Signori, eccoci alla cascata! Abbiamo trovato anche uno spot dove mettersi! Non mai avrei pensato che il sole in Irlanda potesse essere un problema! Che in Irlanda il sole è molto forte! Allora, siamo venuti io e buon Marco a prendere le birre e vogliamo sentire com'è l'acqua! Sarà bagnata? Sarà fredda? No, dai! Un canetto! Un canetto dell'acqua! Ora abbiamo trovato un ranch qua sotto! Bellino! Che sembra quei ranch un po' tipo del Montana! L'abbiamo visto che è aperto, sembra abbandonato, quindi adesso andiamo ad esplorarlo! E il ranch è quello lì! Molto tipo Red Redemption! Il fatto è che abbiamo visto che lì effettivamente è chiuso e c'è un sacco di gente! Ce la può raggiare ma ci stanno in villa! Proviamo lo stesso! Dai andiamo, in casa diciamo il Sorri, Sorri! Aspettiamo che fassa bingo pazzo qua! Andiamo! Guardi che! Ah ma c'è giù tipo la transenna! Ma sai che figo! Oh oh! Che figo! Così potrebbe! Ma ma lo stanno ristrutturando! È tipo un bar! È tipo un museo! Bene! Abbiamo fatto del content illegale! Possiamo andarci adesso! Bellissimo! Denunzio! Ce ne andiamo adesso! Adesso andiamo anche a prendere quelle birre! Un insieme è compito! Siamo appena passati in parte in una guardia! Perché non si può bere qua! Perché in Irlanda si beve dappertutto però non si può bere da nessuna parte! Ci ha guardato? Sì! Però gli è fregato un cazzo di me! Ho un po' gli occhi addosso! C'è un po' di gente che mi guarda! Beh questa! Si c'è un po' di gente che è qua adesso che ci sta guardando! Non fa niente che abbiano la birra in mano! Oh! Quindi Nicola è finito di montare sta cazzo di cosa! Faccio la mano o no? Bicola! 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 Ora mi fermo! Pausa! Come è pausa? Abbiamo fame qua! Veloce! No! Scusa! Allora quel fumo vuol dire che finalmente forse ci siamo! Sono stati bravi nemmeno fatto un cazzo! E qua ci sono i ragazzi, i nostri novi amici dell'Ucraina che sono super attrezzati! Sì! Com'è? Il buono è il formaggio questo! Formaggio! Wow! Sì! Mmm! Mmm! Fare con una grigliazza al Dublino è una cosa importante! È scontato in Italia ma non è scontato qua! È la mia prima grigliazza al Dublino! C'è un po' di mezzo! Come è? Come è? Come è? Come è? Come è? Oh no! Quella se non erro è una sequoia! Io non avevo mai visto una sequoia al Dublino! Infatti è imponente perché finisce più! Ah ma sono ancora! Sì! Andate la gente intorno! E ce n'è una lì e una qua! Pensate come si possono sentire quei funghi in una gabbia! Nicolo che stai facendo? Che impiastri stai facendo? Questo è un pollo marinato nella birra! 12 ore! Abbiamo messo delle bistecche! Allora abbiamo fatto il riba irlandese! Marco assaggia per il pubblico! Cubate! Mamele libero! Cheers! Si scioglie in bocca! Buonissimo! Nico! Questa marezzatura è fantastica! Fantastico! Buonissimo! E la cosa bella sapete qual è? Ce ne abbiamo ancora due! In altre due! Che bestia! Quelle riprese che avete visto fatte con il drone sono quasi costate una multa! Comunque una menda! Da parte delle persone qua che non volevano il drone eh! Ma vabbè! Ci siamo conciati così perché c'è pieno di moschini! C'è di moschini! Hai anche te i quali scusami! Porca pu... Eh? Ciao ci vediamo al prossimo video! Iscrivetevi al canale! Ciao! Ciao!